eccoci qua si sta arrivando natale e sapete che natale è una bella festa per tutti per grandi e vicini stiamo preparando tante tante sorprese e mi trovo in questa bella casa e si è e vorrei pace nel mondo e tanti auguri ai grandi e vicini e mi raccomando sto per arrivare auguri a tutti buon natale